Com'è per i ragazzi comunque di trovarsi e di fare i campi dopo due anni in cui non si è potuto? Molto contenti, visto anche il campo precedente, molto entusiasti. Hanno proprio bisogno di stare insieme questi ragazzi. Anche l'altro ieri che siamo andati a giocare al lago, ho visto proprio che hanno questo desiderio grande di giocare e tutti si sono impegnati proprio anche nel gioco. Qual è il tema del campo? Il tema del campo abbiamo scelto come titolo Siamo tutti work in progress, cioè appunto siamo tutti lavori in corso per cercare di far capire ai ragazzi che la vita, davvero è sempre, il viaggio della vita è sempre un cantiere aperto. Per loro in particolare, che sono dei adolescenti, dei ragazzi che vivono anche il periodo della crescita, ma un po' per tutti, un po' sempre, la vita rimane un cantiere aperto, è importante lavorarci dentro. Come sta andando questo campo? Ma questo campo sta andando bene, ormai siamo alle battute conclusive, è stato un campo bello, ricco, ricco di emozioni, di gioco, di confronto, di amicizia, ricco di relazioni. Ne veniamo tutti da un tempo più difficile che i ragazzi in modo particolare hanno attraversato e siamo, posso dire, che siamo ritornati al sapore dei campi che tu... Dello stare insieme, del vivere, del condividere, che è quello che è venuto a mancare proprio in questi anni. Che è quello che è venuto a mancare e che in modo particolare a loro è mancato ed è per questo che sono tornati i volti sorridenti, il confronto, proprio quello più sano, più bello, più autentico. Io sono i figli, i signori...